Successivamente vedete che sono delle scalette abbozzate che effettivamente appunto permettevano di scendere all'interno appunto del sepolcro. Chiaramente quando in quel periodo si dice tra me le varie, in realtà appunto non ne siamo certi. Quando ci si è qui si cercarono tesori, che era quello che si faceva quando si venivano monumenti, soprattutto tombe antiche. Ed è per questa ragione che l'interno della Camera è fortemente danneggiato. Si staccò sicuramente il quadro...